ci fanno allenatori buongiorno ben trovati dal vostro veterano del fantacalcio preparatevi perché oggi sarà un video non molto ortodosso un video un po strano un video un po diverso dai soliti e che vanno a esaminare le statistiche dei giocatori le qualifiche dei giocatori talenti eccetera oggi parliamo sì di fantacalcio perché parleremo di come gestire un'asta calcio mercato aperto ma la gestiremo in un modo diverso per questo motivo trovate la copertina che appunto dice benvenuti in olanda trovate questo campo di tulipani con dietro un murino a vento e capirete tra poco il perché di questa immagine e quindi partiamo subito con questo video vi ricordo importantissimo per il veterano iscrivetevi al canale abbonatevi al canale abbonandovi avrete tantissimi vantaggi tra cui la guida strategica il file del rating già aggiornato un sacco di file che troverete nell'app di magic goal le domande premium in magic goal abbonandovi avrete diritto alla chat riservata dei amici sia su telegram che su whatsapp quindi un grazie di cuore a tutti voi qui sotto troverete le indicazioni per poter utilizzare il tool di fanta lab e se volete se vorrete poi utilizzare anche acquistare la funzione premium che è veramente un costo risibile diciamo che costa meno di un caffè al mese anzi molto meno di un caffè al mese quindi veramente di grande grande valore mi è stato chiesto come affrontare l'asta a calcio mercato aperto dunque ho pensato tanto come gestire questa cosa perché sicuramente la situazione è molto confusa di fatto non è successo mai a nessuno di noi che due mesi stessimo fermi come serie A durante il campionato e quindi tantissimi faranno l'asta a inizio agosto per fare poi la rasta di preparazione a inizio settembre quindi c'è anche un periodo oltre appunto la difficoltà del calendario anche le difficoltà di gestire l'asta perché giustamente se facciamo l'asta l'1 di agosto ci perdiamo tutti i colpi dei 30 giorni quindi è indispensabile fare l'asta a settembre diversamente tanti faranno l'asta solamente a settembre con il calcio mercato chiuso ma questo è un altro argomento e noi analizziamo questo fanta calcio cioè facciamo l'asta a inizio agosto a fine luglio fino diciamo così a ferragosto per poi gestire una parte restante quando appunto i colpi di calcio mercato saranno chiusi è una situazione molto confusa come dicevo difficilmente valutabile e affrontabile per questo vi leggo questo testo che si chiama benvenuti in olanda un testo scritto da emily per kingsley vi dirò poi perché ho letto anzi ve lo dico subito perché perché appunto l'autrice di questo testo così fa così dice spesso mi è stato chiesto di descrivere l'esperienza dell'avere un bambino con disabilità di provare ad aiutare persone che non hanno condiviso questa esperienza e capirla e immaginare cosa si prova ed è così inizia il testo quando stai per avere un bambino è come programmare un favoloso viaggio in italia compri una guida sull'italia fai dei meravigliosi progetti il colosseo il davidi michelangelo le gondole a venezia comincia a imparare alcune frasi in italiano tutto è molto eccitante dopo qualche mese di sogni anticipati il giorno finalmente arriva fai le valigie e parti alcune ore più tardi l'aero comincia ad atterrare lo studio dice entra e dice benvenuti in olanda in olanda domandi cosa significa olanda io ho comprato un per l'italia io credevo di essere arrivata in italia c'è stato un cambiamento nel piano di volo abbiamo optato per l'olanda e qui devi stare la cosa importante non è che ti abbiano portata in un orribile disgustoso posto pieno di pestilenza carestia e malattia è solo un posto diverso così devi andare a comprare una nuova guida e devi imparare alcune frasi in una nuova lingua incontrerai nuovi gruppi di persone che non avreste altrimenti incontrato è solo un luogo diverso è più calmo e pacifico dell'italia meno abbagliante dell'italia ma dopo che ti sei lì se li do un po prendi confidenza ti guardi intorno e comincia ad imparare che l'olanda è mulini a vento hai tu di panni l'olanda e l'olanda a rembrandt però tutti quelli che conosci sono occupati ad andare e venire dall'italia e ognuno si vanta di quale meraviglioso periodo ha trascorso la e per il resto della tua vita dirai sì quello era il luogo dove avevo progettato di andare e ciò che avevo programmato è la pena di tutto ciò non se ne andrà mai mai perché la perdita dei propri sogni è una perdita molto significativa ma se passerai la vita a piangerti addosso per il fatto che non sia andata in italia non sarà mai libero di godere delle cose molto molto speciali e molto amabili dell'olanda ecco questo è un testo anche abbastanza profondo e ricco di significato che diciamo così poco c'entra col fantacalcio ma che c'entra comunque con la vita con le emozioni quindi è giusto condividerlo però questo testo mi ha fatto venire in mente delle cose che sono legate anche questo periodo molto complicato in gestione appunto della dell'asse del fantacalcio diciamo così è postergata rispetto a quella di inizio di inizio agosto allora io dico il fantamercato aperto è come una metafora è come indossare tutto l'abbigliamento per fare una gara di corsa lo indossate avete l'abbigliamento adatto vi preparate appuntino avete organizzato tutto dal punto di vista logistico e vi ritrovate in pista pronti per partire si parte la gara procede per il meglio il vostro 3.000 siepi sta procedendo quando state aspettando l'ultimo giro di pista sapete che poi l'ultimo giro di pista suona la campana per l'ultimo giro di pista il giudice vi dice cosa vi aspettavate non sentite suonare la campana cosa vi aspettavate la maratona è ancora lunga come la maratona noi siamo venuti qui a fare i 3.000 siepi aspettavamo la campana a suonare per l'ultimo giro e invece no e invece vi dicono attenzione parte la maratona e io voglio fare i 3.000 siepi e allora bisogna fare in modo che l'abbigliamento lo zainetto la preparazione logistica che abbiamo fatto prima sia utile importante per fare la maratona anziché i 3.000 siepi quindi ci troviamo in forte disagio per questo motivo dobbiamo cercare di capire come adattare in una della nostra preparazione per una distanza molto più lunga di 3.000 siepi quindi l'asta a calcio mercato aperto è proprio così dovete affrontare la maratona non un 3.000 siepi non un cento mesi e non dovete bruciarvi subito e quindi è importante avere alcuni consigli utili innanzitutto il budget il budget è molto variabile nel senso che vi permette di fare delle scelte importanti chiaramente il fanta calcio in gioco di decisioni più decisioni giuste prendiamo più abbiamo possibilità di vincere e quindi anche il fatto di scegliere se fare un budget bilanciato quindi 70 30 70 per subito 30 per cento a settembre un budget aggressivo quindi 90 per cento subito o 10 per cento a settembre è veramente impegnativa come scelta ed è fondamentale io su questo dico attenzione al budget teniamo la maniera molto asettica quindi facciamo la nostra preparazione strategica la facciamo e la portiamo avanti con definizione e con convinzione se poi arriviamo all'asta e vediamo che anziché spendere 30 per centrocampo spegniamo 25 ma prendendo i stessi giocatori siamo contenti se per caso andiamo teniamo dei giocatori un po più di fascia bassa stiamo sempre alle nostre regole se per caso poi ottimizziamo come prezzo tanto meglio ci vuole equilibrio altro punto molto importante come detto non bisogna bruciarsi subito perché se ci bruciamo subito alla fine l'equilibrio sta anche la diversificazione dei giocatori delle squadre non sbilanciamoci troppo su alcuni giocatori se siamo convinti che una squadra come milan possa fare bene anche quest'anno ok ma senza sbilanciarci troppo non prendiamo due attaccanti tra le città una pista e due difensori facciamo sempre un equilibrio di squadra molto molto importante dobbiamo avere una spina dorsale molto intensa della nostra squadra puntando a giocatori importanti e che siano poco chiacchierati a livello di calcio mercato quindi se scegliamo di prendere a centro campo un giocatore come Pogba che appena è arrivato e sicuramente non andrà via e il prezzo è giusto secondo noi va bene prendere un giocatore che invece può essere chiacchierato ad esempio mi viene in mente un giocatore come Berardi che magari può avere qualche voce di calcio mercato un giocatore come Zaniolo che può avere qualche voce di calcio mercato la prendiamo lo prendiamo ma solo a un prezzo inferiore rispetto alla nostra aspettativa perché se prendiamo Zaniolo e per qualsiasi motivo può andare all'estero può andare a Juventus magari può avere meno minutaggio può essere importante capire che evitiamo questo tipo di scommesse tra virgolette che ci possono magari un po' essere anche azzardate una possiamo farla più di una per reparto diventa un po' complicato attenzione anche le scommesse vere e proprie quindi giocatori come Baldanzi come Orvat come Samarzic insomma giocatori che ci piacciono anche a livello di fantacalcio è utile comprarli ma uno sempre per reparto non di più attenzione sempre massima alla gestione generale dell'asta di fantacalcio non bisogna fare scelte estreme bisogna fare sempre scelte equilibrate perché come dico sempre la cosa difficile come cantava Lucio Dalla l'impresa eccezionale davvero è essere normale e quindi è importante gestire al meglio tutti questi aspetti spero che questo video un po' strano vi sia stato utile di supporto vi abbraccio forte un abbraccio a voi da veterano buona giornata a tutti buon fantacalcio a tutti ciao ragazzi